parte del ricco patrimonio di tele che un tempo arredava la navata è oggi esposto nell'adiacente museo diocesano le storie di san sebastiano l'apostolato le storie della passione tutti del diciassettesimo secolo rimane in chiesa a destra della balaustra la tela che rappresenta l'adorazione dei pastori i quadri della via crucis sono di angelo giacobbi detto il pastore